La diffusione mondiale del coronavirus porterà a un cambiamento importante nel settore assicurativo. Viene subito in mente all'impatto che avrà sulle assicurazioni viaggi, nonché sulle polizze vita e salute, senza dimenticarci i rischi contingency. Se poi allarghiamo il focus, dovremmo capire come impatterà sui sinistri da interruzione dell'attività d'impresa, o quelli da responsabilità civile, o datoriale, o ancora l'RC degli amministratori e dei sindaci, o la responsabilità professionale sanitaria. Non va dimenticato che per la prima volta, l'11 marzo del 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente definito il Covid-19 quale pandemia mondiale. Pertanto le esclusioni per pandemia saranno probabilmente invocate dagli assicuratori e dai riassicuratori in molti contratti. Concentriamoci sull'impatto nei principali settori. Se pensiamo per esempio a viaggio e turismo, vengono in mente le coperture spese di annullamento del viaggio, o ancora le spese mediche o ospedaliere d'urgenza. Molte di queste polizze, però, già contengono e contenevano un'esplicita esclusione, epidemia o pandemia. Alcune polizze, peraltro, escludono la copertura, non solo per il caso in cui le autorità emettano un divieto espresso di viaggiare in una determinata regione o paese, ma anche, per esempio, per il mero consiglio o avvertimento di evitare i viaggi non essenziali. Soltanto l'opzione di copertura per cancellazioni dovute a qualsiasi motivo potrà offrire delle certezze, potendo coprire anche la cancellazione di viaggi dovuta al mero timore di contagio da Covid-19. Un altro mercato che subirà un forte impatto è quello dei rischi contingency. Esistono sul mercato delle polizze a copertura di eventi cancellati o posticipati per circostanze imprevedibili da parte degli organizzatori, come per esempio il caso di una pandemia. È bene però ricordare come la copertura abituale per la perdita di guadagno dovuta alla cancellazione di un evento potrebbe contenere un'ampia esclusione in caso di epidemia o di pandemia. Anche se fosse inclusa un'estensione della copertura per le malattie trasmissibili, potrebbe sorgere il dubbio sulla copertura di cancellazioni precauzionali da parte degli organizzatori. L'evento, in questo caso, potrebbe avere luogo legalmente, ma essere comunque cancellato a titolo precauzionale in considerazione degli avvertimenti del governo o di un'autorità. In tali casi, la compagnia potrebbe rifiutare l'indennizzo. In questo momento, le aziende stanno subendo rilevanti danni a causa dell'interruzione di attività. La crescita negli indennizi per business interruption è dovuta a una maggiore interdipendenza tra le aziende, la supply chain globale e i processi di produzione. Esiste una sempre maggiore concentrazione di siti produttivi e hub logistici in alcune aree geografiche, per esempio l'Asia. Altre soluzioni offerte dal mercato assicurativo internazionale, soprattutto quello americano, è quella della polizza Contingent Business Interruption, la cui copertura si estende ai danni causati dall'interruzione per eventi che abbiano colpito non già l'assicurato, ma i suoi fornitori o clienti. Supply Chain Disruption. In entrambi i casi, sarà necessario prestare particolare attenzione alle clausole e al wording. Un'altra potenziale criticità è quella derivante dalla cancellazione degli eventi. Va attentamente esaminato se nel testo ci sia una esclusione per cancellazione conseguentemente a malattia trasmissibile, oppure se il trigger sia collegato solamente alla cancellazione per ordine di un'autorità governativa. Il mercato assicurativo dovrà dare nei prossimi mesi delle risposte concrete a nuove esigenze dei clienti e a una diversa percezione del rischio globale, con la differenza che le minacce di fronte alle quali si trova non hanno una storicità di dati e statistici e possono in qualsiasi momento essere confutate in positivo o in negativo. Gli European Brokers è a disposizione di tutti i clienti e di tutti i partner per verificare le coperture assicurative in essere senza alcun impegno, mettendo a disposizione i propri tecnici altamente specializzati nelle diverse aree e settori di business. Contattaci in qualsiasi momento. Siamo sempre operativi. A presto!